Due persone sono state uccisi, almeno 8 ferite nel corso di una sparatoria avvenuta la notte scorsa a Miami. Una delle vittime è deceduta sul posto, l'altra subito dopo il ricovero in ospedale. Secondo quanto riporta la CNN, non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la sparatoria e non sono ancora stati individuati gli autori dell'agguato.